ragazzi in buona serata da corrido renato mickeycock vi presenta la postazione da game che pian pianino sta si sta modificando sta crescendo ecco la portatile hp che uso per gli editi in video la mia webcam esterna per live streaming su streaming yard ovviamente la mitica playstation 4 da un terra con hard disk esterno alla sua sinistra la stampante laser ovviamente bianco e nero il mitico integratore per strimare le vela fra ragazzi il selfie stick per le riprese con il cellulare ovviamente cellulare oppo a 94 ma anche iphone 8 plus il tablet lenovo sempre per strimare con i giochi tipo clash royale e altri tipo rocket league 6 swipe ed ecco andiamo sulla mia destra dove ho un joystick ma ne ho anche un altro bluetooth nero il mouse esterno quando che uso quando ho problemi ovviamente col joystick dalla playstation per muovermi su fornite un'altra stampante laser in bianco e nero questa le cuffie le seconde cuffie in alto le prime cuffie della traste ovviamente col samsung a il tv samsung da 30 pollici e infine qua in basso la mitica torretta che può arrivare fino a un metro e quaranta con webcam della playstation con un po di cavetti e ora ragazzi mi raccomando lasciate un like al video e chi non è ancora iscritto si iscrive al mio canale mickey crow ragazzi buona serata da corrido nelato mickey crow hey guys